Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Una veloce saccatura in arrivo dal nord-ovest sarà l'origine di un peggioramento piovoso al nord nel corso della giornata, con temporali anche intensi. Il corpo nuvoloso interesserà marginalmente anche le regioni centrali, mentre al sud e sulle isole prevarrà l'azione di un timido cugno di alta pressione di matrice subtropicale che farà lievitare le temperature soprattutto sulle isole. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 6 maggio. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso. Dal pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità alta e stratificata in seguito all'arrivo di aria più calda dal nord-Africa. Possibilità di deboli precipitazioni sparse sulla Puglia centro-settentrionale e in serata su Valle d'Itria e Brindisino. Della nuvolosità sparsa insisterà anche sulla Basilicata, altrove invece più schiarite. Temperature, come notiamo dalla grafica, in aumento, specie nei valori massimi sulle aree interne. Venti deboli settentrionali tendenti a disporsi da sud con rinforzi di scirocco in serata. Mari quasi calmi o poco mossi. Da oggi un nuovo servizio gratuito. Previsioni sul vostro telefono aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore, Michele Azzellino, per averci regalato questo tramonto ricco di sfumature dal litorale di Rodiga Organico. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie.